Una situazione improvvisa che mi ha fatto molto piacere e ringrazio per questa dimostrazione di fiducia nonostante un'inattività di quasi nove mesi. Cercherò di essere utile il prima possibile. Non sto così male come potrebbe essere dopo questa lunga inattività, però è chiaro che il calcio giocato dai ritmi di una partita, di allenamenti intensi, devo recuperarli nel minore tempo possibile. Cercherò di essere il più onesto possibile anche con me stesso per capire a che punto sono di condizione o nell'eventualità di un potenziale impiego. Lo volteremo in questi quattro giorni che mancano a lunedì. Partita sicuramente difficile, impegnativa come lo sono tutti nel campionato di Serie A ma che assolutamente una squadra non può pensare di affrontare partendo sconfitta o comunque con una mentalità remissiva perché ho seguito abbastanza le partite da fuori con un occhio magari diverso e soprattutto quest'anno non ho visto una squadra, la stessa Juventus, così... non dico imbattibile, è prima meritatamente perché ha dei valori superiori alle altre però comunque ha concesso anche dei punti inaspettati a squadre che sulla carta erano battute. Io ho seguito non perché è Sassuolo ma perché è una realtà che mi ha curiosito già dallo scorso campionato comunque nonostante questo periodo così difficile, viste anche tantissime situazioni che hanno portato anche a me a essere qua è un calendario comunque abbastanza impegnativo. La squadra ha dimostrato soprattutto fino a un mese fa di essere assolutamente competitiva, una squadra forte che gioca un ottimo calcio e che ha permesso di valorizzare anche tantissimi giocatori giovani e di grande futuro.